Sponsored by Costa Marina, case, vacanze, b&b e ristorante a Peschici Gargano Info 348 83 29 295 Costamarina Peschici.it Impresa Valassi Fermo e Franco L'arte di costruire e ristrutturare www.valassiff.it Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Urginate Trattoriacantù.com Studio Dentistico Caponero Dottor Livio Sulla bocca di tutti caponerolivio.it Treva Home La tua casa vacanza sul lago di Como 340 22 45 235 trevahome.it Buonasera, bentornati a LCN After Match in questo appuntamento infrasettimanale per il recupero e che recupero perché alla sinigaglia di Como andava in scena il derby tra Como e Lecco con tutto quello che ne consegue con quella che era stata la settimana di avvicinamento con la tessera del tifoso a non consentire a molti supporter blu celesti di muoversi verso come di assistere al match allo stadio il Lecco ha giocato una splendida partita anche oggi come la scorsa settimana come a Cremona ma non è uscito con i tre punti con il bottino pieno si deve accontentare dunque di un punto la squadra di Malgrati e di Bonazzoli con qualche rimpianto come dicevo, proprio come è accaduto a Cremona perché il Lecco complessivamente ha giocato meglio un punto per uno, sì però se fosse stato un incontro di pugilato il Lecco avrebbe vinto sicuramente i punti per quanto costruito nella ripresa e per i gol mancati è vero, le occasioni create ma per i gol mancati forse se vogliamo questo è l'unico ancora difetto della squadra di Malgrati e di Bonazzoli ovvero non concretizzare le tante occasioni che arrivano due legni anche sulla strada di blu celesti in quel di Como a sbarrare la porta a negare la vittoria però sicuramente il Lecco ha giocato complessivamente meglio del Como e dopo un inizio un po' ostentato in cui il Como aveva fatto vedere il Como di Fabregas la sua qualità nel gioco era un po' lo spauracchio forse anche questo il Lecco però non solo non si è fatto intimorire ma con un atteggiamento di squadra molto attento e propositivo è riuscito poi a uscire alla distanza si è completato questo ciclo di recuperi erano tre quello che era successo all'inizio dell'anno lo ricorderete le partite da recuperare il Lecco ora si è riaccodato si è acclimatato definitivamente alla Serie B perché ha le stesse partite giocate delle altre squadre la salvezza in questo momento è a soli due punti certo se ce l'avessero detto due mesi fa forse non ci avremmo creduto che al termine dei recuperi saremmo stati così vicini a portata di tiro una sola partita dalla salvezza e questo è accaduto questa è la situazione attuale dopo il recupero con il Como ci facciamo raccontare però meglio quella che è stata la partita di Senigallia dalla nostra inviata Benedetta Panzeri Benedetta ciao a tutti amici di LCN After Match siamo qui dallo stadio Senigallia di Como quasi vuoto semi vuoto perché in realtà abbiamo ancora qualche persona che gira nei paraggi lo stadio si sta svuotando siamo qui per raccontarvi un po' quello che appunto è successo avete già avuto modo chiaramente di conoscere il risultato di sapere un po' come si è sviluppata la partita e anche oggi diciamo che un po' come già abbiamo detto dopo la gara contro la Cremonese ma anche in altre occasioni in precedenza una delle più lampanti quella contro lo Spezia ad esempio che il Lecco esce dal campo con tanti rimpianti quindi è una buona notizia in questo senso perché vuol dire che il Lecco ancora una volta avrebbe meritato comunque più di quello che ha raccolto quindi questo significa che comunque questo Lecco sa cosa sta facendo lo sta facendo bene ha le idee chiare su come si sta svolgendo il suo campionato quindi evidentemente il lavoro la cura di Bonazzoli è malgrati sta davvero dando ottimi frutti però c'è anche da dire che appunto anche oggi non è arrivata una vittoria che per il Lecco sarebbe stata anche meritata considerando tra l'altro i due legni colpiti ma solo un pareggio quindi è vero qualcosina da rivedere evidentemente c'è dal punto di vista offensivo per poter essere finalmente più cattivi più cinici saper sfruttare davvero tutte le occasioni anche se poi chiaramente bisogna dire che è mancata anche un po' di fortuna quindi la fortuna dovrebbe girare un po' a favore dei blu celesti che è vero oggi hanno mosso la classifica con un altro punto importante ma avrebbero anche meritato qualcosa in più quindi è un po' questa la sensazione che ci lascia questo derby che comunque il Lecco come vi diceva ha vissuto da protagonista facendo il suo gioco mettendo in campo una buona prestazione in tutti i reparti quindi non è stata una cornice di pubblico fantastica diciamo come vi abbiamo raccontato già in precedenza perché il settore ospiti era vedeva solo 233 persone quindi un numero davvero ridotto sapete per le note vicende relativi alla Fidelity Card quindi comunque è un derby che il Como che il Lecco scusate ha vissuto in maniera un po' parziale il Lecco inteso come piazza che però diciamo ha lasciato la consapevolezza che come vi abbiamo già detto in varie occasioni la squadra blu celeste non è in serie B per caso in serie B ci può stare tranquillamente può mettere in difficoltà anche avversarie che puntano a zone della classifica ben diverse e quindi questa non può che essere una buona notizia pur con tanti rimpianti intanto come vedrete come avete modo di capire qui c'è un vento molto forte che è soffiato per tutta la partita a volte mettendo un po' in difficoltà anche i giocatori nelle giocate nel calcolare le traiettorie della palla quindi anche questo c'è stato ad arricchire questa serata che comunque è stata molto molto piacevole interessante che ha lasciato tante buone notizie per il Lecco quindi ne parleremo poi nel proseguo della trasmissione e anche analizzando un po' le parole di mister Bonazzoli in conferenza stampa eh sì abbiamo sentito sono state davvero tante le situazioni che il Lecco ha saputo costruire in questa partita se vogliamo dall'arrivo di Bonazzoli a Malgrati in panchina al posto di Foschi il Lecco ha iniziato a giocare a calcio a iniziare a giocare un altro tipo di calcio sicuramente rispetto all'allenatore precedente la cui tattica era sicuramente quella di aspettare e ripartire per pungere in contropiede il Lecco invece prova a giocare una partita diversa in questo momento se vogliamo a Como ha provato a fare un pochino nel primo tempo quello che era è il vestito dei mesi scorsi e soprattutto delle passate stagioni della passata stagione culminata poi con la promozione in Serie B però forse Lecco le cose migliori le ha fatte quando è riuscita a stazionare prevalentemente nella metà campo del Como e a far girare anche bene la palla le occasioni sono arrivate perché abbiamo detto sicuramente i due legni che sono arrivati nel primo tempo con il tiro di crociata deviato e poi l'Emmens che si è divorato il più grande dei gol il suo compito non è segnare i gol e si è visto purtroppo nella ripresa poi sono arrivate altre grandi occasioni colpo di testa di Caporale ancora una volta da situazione di palla inattiva da calcio d'angolo traversa piena incrocio dei palli pieno da posizione ravvicinata di Caporale qualcuno dice sì è più un gol sbagliato che segnato anche questo probabilmente è così ma ci sono state anche situazioni non da palla inattiva o da tiro da fuori ma da azione palla a terra come la transizione portata molto bene da Buso un 3 contro 2 che si è venuto a configurare ma Buso non è riuscito però forse peccando un po' di lucidità a gestire bene la situazione avrebbe potuto servire i compagni invece è andato a calciare troppo sul portiere del Como Semper l'Ecco ha creato tanto tanto lo abbiamo detto e non è riuscito però a segnare ma sicuramente ha fatto meglio del Como e sicuramente possono essere soddisfatti gli allenatori Bonazzoli e Malgrati perché la squadra continua dopo il passo falso sì dei risultati ma non nel gioco di Cremona continua a essere una squadra di serie B e come se la gioca anche con le squadre più forti sentiamo allora un estratto della conferenza stampa di Bonazzoli nella post gara e poi ci facciamo spiegare anche che cosa ha detto Seljak oltre a un'altra disamina di Bonazzoli dalla nostra Benedetta sicuramente è stata talmente veloce l'azione la ribattuta che se l'è trovata quasi sull'interno l'ha presa anche male secondo me dispiace perché sembrava mancando il portiere che l'interra si avesse preso la porta sicuramente sarebbe sarebbe stato il vantaggio per noi però ripeto grandissima partita da parte nostra potevamo andare in vantaggio abbiamo rischiato qualcosa volevamo palleggiare un po' di più essere un po' più coperti anche all'interno quindi togliendo una punta mettendo un centrocampista un trequartista in più poteva dare una mano sicuramente internamente all'interno del campo abbiamo fatto questa scelta è andata bene appunto abbiamo mosso la classifica abbiamo ripreso l'ascoli l'importante come dico sempre muovere la classifica bene come promesso analizziamo un po' anche le parole in conferenza stampa di mister Emiliano Bonazzoli l'allenatore dell'ECCO ha sottolineato come appunto la sua squadra sia scesa in campo al meglio abbia messo in campo tutto quello che era stato preparato in allenamento e appunto non sia stata forse sufficientemente cinica e cattiva nel concretizzare le occasioni anche se allo stesso tempo ha avuto come dicevamo già prima un po' di sfortuna quindi nonostante questo all'ECCO non è mancata la personalità la voglia di giocarsi questo derby da protagonista e appunto non ha fatto sentire l'ECCO diciamo la differenza in classifica rispetto al Como che appunto è nelle primissime posizioni della classifica di serie B quindi il mister soddisfatto decisamente anche se forse avrebbe lui stesso voluto qualcosina di più perché poi l'appetito viene mangiando la stessa cosa diciamo ha detto Celiac che ha poi anche posto l'attenzione su alcuni errori alcune diciamo piccole mancanze su cui l'ECCO avrà poi modo di lavorare di migliorare mentre invece a sentire un po' quello che ha detto Fabregas l'allenatore del Como sembra quasi che dalla parte dei comaschi si sia vista una partita diversa e perché lo diciamo? perché Fabregas ha detto convintamente in più occasioni che il Como avrebbe meritato di vincere questa partita l'avrebbe meritato per il tipo di gioco espresso lui ha detto che è soddisfatto comunque di quanto la sua squadra sta diciamo seguendo le sue indicazioni sapete che rispetto a Longo Fabregas ha un tipo di gioco diverso un po' più improntato sul possesso palla sulla costruzione dal basso e lui ha detto che rispetto alla Feralpi Salò ha già visto comunque miglioramenti in questo senso quindi su quanto chiede ai suoi ragazzi ma appunto lo spagnolo ha detto che secondo lui il Como avrebbe meritato di più dichiarazioni che appunto dal nostro punto di vista non sono diciamo del tutto corrispondenti a quanto si è visto sul campo perché forse al netto di tutte le occasioni avute nei 90 e più minuti il Lecco avrebbe meritato davvero qualcosina in più del Como però al di là di questo appunto le due squadre se la sono giocata viso aperto e questo l'ha sottolineato anche a più riprese mister Bonazzoli ed è una cosa un altro aspetto che non può che far ben sperare il Lecco perché il Lecco è venuto qua senza paura a giocarsela nonostante sapesse di non poter contare sull'apporto di tantissimi tifosi oggi quindi appunto la sensazione dalla sala stampa è che appunto il Lecco sia in crescita in costante crescita che stia mettendo in campo tutte le qualità che ha con tutti gli uomini perché Bonazzoli tra l'altro ha fatto i complimenti anche a chi è subentrato dalla panchina a gara in corso perché tutti davvero hanno dato il loro contributo per questo risultato quindi è un pareggio che sempre per citare il mister muove la classifica quindi è assolutamente da accogliere con favore e da qua si deve ripartire per preparare poi i prossimi impegni a partire da quello di domenica contro il Bari in casa che sarà ancora più importante perché l'Ecco ora deve tornare a vincere a fare punti pesanti tre punti e quindi a muovere la classifica in maniera più decisa a livello individuale è stata una partita ben giocata da quasi tutti i giocatori dell'Ecco da quasi tutti gli uomini scesi in campo non solo gli undici ma anche poi chi è entrato dalla panchina su tutti ci piace spendere una parola per Duccio degli Innocenti che poi è uscito un po' acciaccato ma anche oggi ha dimostrato la sua grande crescita a livello personale una prestazione notevole sia nella fase di interdizione e nella capacità di rigiocare poi i palloni con grande lucidità in cabina di regia ma una personalità che dimostra questo ragazzo quando esce palla al piede da situazioni anche difficili grazie insomma un po' alla velocità che lo contraddistingue è davvero davvero una delle più liete sorprese di questa prima fase di campionato nell'Ecco si è preso una maglia da titolare la sta difendendo molto bene bravo anche Sarsanti che continua a confermare di essere un giocatore assolutamente almeno di categoria si sono mossi là davanti con un assetto un po' diverso dalle ultime partite perché questo 4-3-3 oggi è stato interpretato in maniera diversa da Malgrati e da Bonazzoli perché davanti c'è stato ancora una volta l'Eipore Alto con Crociata è sembrato un po' più solo Novakovic in mezzo all'attacco blu celeste forse un po' ha pagato anche questo oggi il giocatore il centramanti dell'Ecco perché non ha fatto la sua migliore partita sicuramente nella giornata di oggi nel derby Novakovic ha provato a fare sportellate con generosità come al solito ma non è stato neanche troppo servito né riuscito a giocare palloni di sponda per i compagni sicuramente è stata una partita un po' timida anche da parte di Buso quando è entrato che forse è stato il meno convincente anche se è entrato comunque con uno spirito gagliardo dalla panchina quelli che sono entrati dalla panchina hanno fatto tutti comunque bene perché Giudice è entrato con uno spirito giusto ed è riuscito a riallungare ancora la squadra davanti e lo stesso insomma hanno fatto gli altri giocatori che sono entrati dalla panchina soprattutto Eusepi che è riuscito a fare quel gioco di sponda per i compagni che era un po' mancato invece a Novakovic nella prima parte di gara e poi è riuscito anche a concludere con una bella volée nel finale che avrebbe meritato forse miglior sorte però sicuramente tutti i giocatori dell'ECO oggi hanno dato una grossa mano per cercare di vincere la partita è arrivato comunque un buon punto che muove la classifica andiamo a vedere quelle che sono proprio le disamine da un punto di vista tattico nella rubrica Step by Step è sicuramente un lecco che piace anche perché può vestire degli abiti diversi nel corso di queste settimane stiamo vedendo delle partite interpretate molto bene dalla squadra di Malgrati e Bonazzoli con un centrocampo sì che permette di recuperare palla molto alto l'abbiamo detto anche domenica scorsa con la Cremonese di trasformare palloni ripuliti in occasioni potenziali occasioni da gol o vere e proprie occasioni da gol ma lo fa anche quando gli interpreti sono diversi perché oggi abbiamo visto un 4-3-3 un po' più accorto un po' più difensivo per partire in velocità magari un po' meno spavaldo dal punto di vista offensivo con Crociata che è stato un po' più sulle sue e l'epore dall'altra parte con l'emmels basso questa duttilità sembra proprio essere uno dei punti di forza dell'eco che riesce ad adattare bene il modulo quindi non c'è un dogma diciamo che non si può da cui non si può uscire come magari accadeva altre volte ma che si tratta bene a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario a Cremona e a Como anche in altre situazioni per esempio col Parma questo si è visto molto bene sicuramente una grande duttilità da parte della squadra blu celeste questo viene garantito anche dalla personalità degli interpreti che poi vanno in campo abbiamo detto bella la prestazione a Como di tutti i giocatori anche di chi è entrato dalla panchina insomma abbiamo citato Giudici che sicuramente è stato molto bravo ma anche chi ha giocato dall'inizio è riuscito a dare un grosso contributo nel sovrastare se vogliamo soprattutto nella ripresa il più quotato Como che in questo punto è comunque terzo in classifica non dimentichiamo nell'eco affrontato Cremonese e Como che sono al terzo posto della classifica nelle ultime due partite si è preso su un punto probabilmente ne meritava di più ma ha fatto la prestazione in entrambe le situazioni abbiamo detto di chi è entrato che lo ha fatto molto bene chi ha giocato per esempio Caporale che sì si è mangiato un gol probabilmente che poteva decidere la partita ma ancora una volta lì a sinistra ha dimostrato di avere la gamba sia per intervenire in fase difensiva sia per sgroppare sulla fascia ce ne ha parlato Benedetta che si è concentrata nella sua benedizione proprio su Caporale Ormai è un punto di riferimento importante per questo Lecco un giocatore che non manca mai nell'undici titolare di Bonazzoli e Malgrati che evidentemente credono molto in lui hanno grande fiducia nelle sue qualità e infatti continuano a dargli grande spazio sto parlando di Alessandro Caporale che anche oggi qui nel derby dell'Ario è stato protagonista di una prestazione molto positiva chiaramente in difesa quindi nel suo solito ruolo da esterno diciamo ma anche in altre zone del campo comunque dove serve un contributo lui c'è con appunto prove di sostanza di quantità e qualità anche oggi il suo contributo si è sentito e avrebbe potuto sentirsi anche in maniera molto maggiore se fosse stato anche aiutato da un po' di fortuna che gli è mancata nel momento in cui ha colpito l'incrocio dei pali con quel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo quindi purtroppo Caporale non ha avuto la fortuna di festeggiare un gol di esultare per una gioia personale ma anche oggi può tornare a casa con la consapevolezza di aver messo in campo un'altra grande prestazione che potrà far ben sperare i suoi allenatori comunque i compagni di squadra anche per il prosieguo del campionato in cui sicuramente non si smetterà di fare affidamento su di lui quindi nonostante il gol che purtroppo gli è sfuggito proprio per un pelo la mia benedizione oggi va ad Alessandro Caporale chi va alla ricerca della purezza chi va d'accordo con il pianeta chi va oltre il solito fondente chi va sempre sorpreso chi va preso per la cura chi va al cuore del cacao Vanini nel cuore del cacao oggi non si giocava soltanto il derby come l'eco ma c'era anche l'altro recupero per allineare la serie B definitivamente a 14 partite giocate c'era anche su Tirol Brescia che è culminata con un pareggio 1-1 con il Brescia che in 10 per tutta la ripresa è riuscito comunque negli istanti finali ad agguantare il pareggio andiamo a vedere allora la classifica come cambia dopo queste partite Venezia e Parma sono sempre là davanti Como che aggancia la Cremonese al terzo posto a 25 punti 5 lunghezze sono tante ma il campionato è ancora lungo per le zone alte può succedere di tutto con Palermo e Modena ancora non tagliate fuori poi c'è un grande gruppo là in mezzo con il su Tirol che sale a quota 17 punti Bari che sarà il prossimo avversario dell'Ecco proprio nella quindicesima giornata domenica contro il Bari l'Ecco Bari a riga Monticeppi e poi insomma via via tutte le altre l'Ecco aggancia l'Ascoli a 13 punti il Brescia sale a 15 la zona salvezza come detto è a 2 punti ed è sicuramente qualcosa che ci dà un orizzonte diverso rispetto a quello che pensavamo fino a qualche tempo fa siamo ai saluti grazie per averci seguito vi abbiamo raccontato anche questo derby noi torneremo attualmente nel weekend con tutti i nostri appuntamenti LCN warm up sabato per raccontarvi la pre-gara di Lecco Bari e poi LCN stadio per raccontarvi invece la gara del riga Monticeppi contro i pugliesi e LCN after match tornerà a farvi compagnia domenica sera cliccate la campanella schiacciate il pulsante per iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando magari commentate anche questo video io vi ringrazio buona serata e buona settimana domenica prossima grazie per aver guardato grazie per aver guardato